Promossa dal Comune di Trieste e dal Comitato per i Martiri delle Foibe, si è svolta oggi a Basovizza la solene cerimonia del Giorno del Ricordo, ricorrenza a memoria delle vittime delle Foibe, dell'esodo Giuliano Dalmata e delle vicende del confine orientale del secondo dopoguerra, che quest'anno coincide con il settantesimo anniversario del Trattato di Pace di Parigi. Dopo l'ingresso dei gonfaloni, l'alzabandiera, la deposizione di corone dall'oro e la consegna delle medaglie ai familiari degli Infoibati, una santa messa è stata celebrata dall'arcivesco Giampaolo Crepaldi e seguita la lettura della preghiera per gli Infoibati, di due poesie e gli interventi delle autorità. Questo calvario, col vertice sprofondato nelle viscere della terra, ha detto il sindaco di piazza, costituisce una grande cattedra che indica nella giustizia e nell'amore le vie della pace. Ci deve essere il rispetto di tutto il popolo italiano per gli esuli dell'Istia, fiume, e la Dalmazia e per le vittime che sono state nascoste alla storia per anni e anni, perché solo da ricordo di questi drammatici eventi possiamo imparare e ritrovare la giustizia e l'amore per percorrere quelle vie della pace indicate da Monsignor Santini. Paolo Sardos Albertini ha a sua volta ripercorso la strada fatta da quando, nel 1991, il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga per primo si inginocchiò sulla foiba di Vasovizza, per costruire un futuro di pacificazione tra tutti i popoli vicini. Il sottosegretario Benedetto della Vedova ha parlato di atrocità e violazioni di diritti umani in un silenzio insopportabile calato in Italia su questa vicenda.